Tenendo conto del budget a disposizione della necessità di ricostruire l'organico dello scorso anno quasi interamente azzerato, a bocce ferme e in attesa dell'incontestabile verdetto del campo, probabilmente Vittorio Tosta ad oggi non poteva fare di più. La spending review societaria che rende impossibili i sostanziosi rilanci pretesi da quei calciatori che godono di ottimo mercato e in qualche caso le perplessità sulle ambizioni del club peloritano hanno reso davvero ostico il lavoro del direttore sportivo calabrese che ad oggi ha portato a casa, al netto di qualche operazione minore e di un paio di matrice proprietaria, decisamente di contorno 4-5 potenziali titolari, il portiere Ander Brunelli, la mezzala Valdassini, il mediano Ricozzi, l'esterno offensivo Milinkovic e il centravanti Pozzebon a cui dovrebbe aggiungersi ad ora se il play Musacci. Ipotizzando le conferme di Burzigotti e Giorgione che al di là delle dichiarazioni ufficiali non è ancora così scontato o vestano il bianco scudato anche nel campionato al B e il 28 di agosto occorrono almeno altri tre elementi per assicurare a Bertotto un'undici base di discreta qualità in grado di non sfigurare e soprattutto non rischiare almeno uno per reparto a cui aggiungere altri atleti per integrare le seconde linee attualmente semiscoperte La piazza resta tiepida il dato della campagna abbonamenti è un termometro indicativo le 640 tessere vendute in un mese e mezzo rappresentano un risultato decisamente al di sotto delle aspettative della proprietà che contava di migliorare i buoni numeri dello scorso anno sul fronte squadra dopo l'amichevole di oggi con il Benevento di fatto vanno in archivio le due settimane di ritiro programmate a Fuggi a quanto pare l'idea della società dopo una mini pausa è quella di proseguire la permanenza in Lazio sino all'immediata vigilia della partita dei preliminari di Team Cup con il Siena che in seguita problematiche di natura societaria soltanto domani darà il via a ritiro a Castel del Piano in gioco c'è la qualificazione al primo turno in cui la vincente si misurerà a Ferrara con la spalla neopromossa in Serie B grazie a tutti